Iniziamo. Il professor Paolo Ponzio, direttore del Dipartimento di Studi Humanistici dell'Università di Bari. Professore, questa tre giorni cosa si dobbiamo aspettare? Ci aspettiamo sicuramente delle relazioni molto importanti su un convegno che riguarda la narrazione dei pellegrinaggi e delle storie di cammini dall'antichità al medioevo. Ci saranno colleghi che vengono evidentemente non solo dall'Università di Bari ma anche da alcune università con noi collegate soprattutto nei paesi ibero-iberici, cioè Spagna e Portogallo. Sarà sicuramente un viaggio che partendo dallo studio e anche da alcuni autori che hanno raccontato di sé dei pellegrinaggi, dei cammini, degli itinerari e riguarda uno dei territori più importanti e più affascinanti del nostro territorio pugliese che è appunto Monte Sant'Angelo che è per noi la capitale del pellegrinaggio, la capitale dei cammini. Quindi ci aspettiamo che questo convegno ci indichi anche qualche sviluppo che il nostro territorio può avere nel guardare e nel realizzare cammini itinerari che possano servire all'uomo e alla donna del XXI secolo.